Per il tempo Evan si sta mimetizzando E' fantastico E' fantastico E' fantastico questo E' fantastico E' uscita una molettina anche a me E qui il nostro amico ha trovato questa bellissima Votiva d'Arge L'ha chiamato Adesso voglio andare là nel boschetto E io 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 Iniziamo così la giornata Un grande Samuele Massimiliano Pino Qui abbiamo Fabio Ivan Andrea Le Tenerine Come si chiamano questi pure? Cantucci Il numero uno Adesso ci facciamo questi prati qua Brutto Guarda che roba Qui il suono è buono ma il WDI è basso 26 Vediamo cosa sta da fuori Sanno che mi diamo un suono buono E' già fuori E' già fuori Dov'è? Qua E' infatti un bossolo Da casa d'oro Che roba Ha detto Qui c'è roba In Toscano Giustamente Siamo In terra toscana Un gran vento oggi ragazzi Un gran segnale Un nè però Lo senti io? Sì Che è? Una palla? Piombo? Piombino 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 per Samuele Nanda Iscrivetevi al suo canale ragazzi Come si chiama il tuo canale? Noanda 79 Noanda 79 Ah con la W NW E' vero E' vero E' vero E' vero Lo trovo qua Andrews Adesso guarda Ti farò vedere Il classico Baffanculo Baffanculo E' il mio E' il mio E' il mio E' bello liscio No No magari se giro la zolla Eh Eh C'è meglio Allora ci abbracciamo O devo stare qui? Devo consumare la batteria Per questa zolla? Se ti fa fatica te lo tiro fuori Però se è buono lo tengo No No ditemi dov'hai più che l'altro Fammi sentire Cava il metro qua Io non lo sento Ma che ma non sono Ma non è mia lunga Io non lo sento Io non lo sento Io non lo sento Io non lo sento neanche Eh L'ho mollato quel target Andrea Adesso andiamo a vedere giù nel castagnetto E' il corrobero là E' roba di valore e roba mia Se è roba di buono E' di Samuele E' a un bossolone un bossolos allora ha chiamato dice vieni qua ho trovato due cose andiamo allora cominciamo con questo attenzione ci sei? troppa roccia mi sei convinto a mettere vado? bellissimo primo ritrovamento degno un bel di tale come un altro? sempre lì? c'è un'altra zolla ciccio due segnali per il busone toscano attenzione amici non lo so guardiamo poi vedi te c'è il caso di mettere o no cosa? cosa? c'è il culo roccia? nooo forse è una gottiva no questa è romanissima cazzo che bella nooo questo la mettiamo nelle video vogliamo farla che spettacolo guarda che cazzo di... no è una gottiva o una romana? cazzo di tale è fantastico fantastico ma la fantastica è questa guardate che roba una patina spettacolo proprio cazzo che vuotiva ma che roba cazzo non si capiva se era una moneta è talmente perfetta guarda che bella tutte e due lì poi una qui e una lì più in là 50 centimetri guarda che posto che abbiamo ragazzi vediamo se cominci a uscire qualcosa ragazzi qui è uno spettacolo esatto qua si scappuzza che posto e poi ti prende la passione l'altra volta? ha cambiato suono ragazzi magari è un basciolo no non è un basciolo non lo so ma è un basciolo questo è un basciolo un basciolo questo è un basciolo 59 fishe vediamo qua ragazzi è morbidissimo qua la terra vediamo purtroppo una valvola facciamo una valvola da pallone non c'è lei niente in basso no un cappuccio che si sbriciola mettiamo la terra dentro e il target in tasca richiudiamo la bucca richiudiamo sempre le bucche piccolo anche questo castagno che bello che spettacolo niente qui c'è un'interferenza non so perché madonna si affonda questa palla qui ragazzi puttana che cazzo guarda che la terra aiuta è morbidissima però adesso vediamo cosa c'è è sabbiosa qua la terra che roba è che roba è oh john player special questo è il gps del john player special non so se sia un pezzo di un accendino che roba è non puliamo poi vediamo guarda 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 sparito ias è qua ah fai oh ho giocato mi piace sono le roate ias sono le roate ho giocato un pezzo di macchinina se si girano le ruote adesso si spacca tutto sicuro che roba purino un bambino sarà stato adesso magari c'è anche un altro pezzo di managra adesso scaliamo qualcosa di grosso una latta non ho idea non ho idea ma che tenere non ci do perché si rompe Questo è un gancio ovviamente. Un'asola. Non lo so. Un vecchio orto, direi. Penso rame. Io ho un segnale 35. In mezzo a queste azollette vediamo cos'è. Non l'amirina. Che va a fang piiip. C***o. Non l'amirina. Gatti non so ancora cosa abbiamo trovato. Adesso li raggiungo. Sono sparsi per le castagnette. In questo spettacolo qua sono sparsi. Aia. Un riccio. Quello da fare. E già. Mi ha uno strappo di latte. Vaffanculo. E due. E due. E due. E due. Ma l'ha fatto scavare una lamiera di 6 km. D'oro. Ok. 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 Poi dove c'è. Tordi, vai a lasciareief. Dai. Da tu. Minchia. Non l'hai in là? Era foco. Non la stava mangiando. Buon appetito. Marta, vedi questa maniera. No. abbiamo ripreso dopo il pranzo ragazzi non è ancora uscito io non ho trovato niente guardate qualcosa ho trovato poi dopo ve lo faccio vedere intanto vediamo cosa c'è qui mi sembra di vedere già una macchia un tappo il tappo di una bottiglietta di vetro le mani che spettacolo di posto ragazzi comunque non ho trovato niente gli ragazzi di qualcosa hanno trovato un po tutti io zero il rotto in culo toscano ha chiamato attenzione monetina magari un boss lo speriamo un boss questo non è italiano è inglese 50 50 lì a 50 lire dai la velle 50 lire 50 lire italiane che cazzo io non mi ha visto così ma che roba sono queste 1996 50 lire ma che cazzo sono queste non mi ha visto mai visto ma non so mica italiana italiana c'è repubblica italiana ma che cazzo sono io non mi ha visto mai visto magari è rara ma si rara si è recente ma non l'ho mai vista ho trovato questo che non so cosa sia questo pezzo non so cosa sia non so cosa sia non so e probabilmente non lo so mai sembra che ci sia disegnato o raffigurato qualcosa una medaglia io ho trovato un pezzo di votiva secondo me ho un distintivo ho un distintivo non lo so ci guardo devo pulirlo ci guardiamo a tutti i navigatori ragazzi non uscite mai con nuande perché è un rotto nel culo andiamo a vedere ha un rato votiva è bella pure è bella pure andiamo a vedere no perché si è rotto in culo col cuore che spettacolo l'integra c'è tutto con quale cuore mi sa bellissima non è che è rotto nel culo che c'hai tiene cos'è sta cosa qui oh aspetta questo è un freggio che cazzo c'è un pezzo di freggio dove la trovavo qui? lì dove ti al metto? questo è un pezzo di freggio si si c'è anche le scritte c'è un pezzo di freggio si vuoi farlo a cambio? se non era rotto era più bello del mio ci sta qua la solla nella solla vediamo cosa c'è da ecco poi 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 toc poi ah e se sceglie e se sceglie e se sceglie e se sceglie ah fanculo niente scappotato una monetina l'ho trovata anch'io mi sa che devo pagare da bere mi sa la mistura è bellissima sembra bellissima anche non lo pago da bere con questa cazzo si piega in mano però che rischio adesso mi fumo una sigaretta nel frattempo che vado da Ivan che ha chiamato moneta e ha scappotato anche lui è la prima che trovi oggi ha scappotato anche lui finalmente andiamo a vederla guarda è bello almeno un 10 centesimo di collo per Ivan Isevic questo fa almeno l'abbiamo scappotato scappotato Ivan unci bello almeno la monetina alla fine qualcosa abbiamo trovato tutto però sono dovuto tornare qui se no abbiamo trovato un cazzo tutto oggi che giornata però oggi abbiamo preso una giornata bellissima mamma mia guardate che c'è oggi abbiamo preso una giornata fantastica e qui il nostro amico ha trovato questa bellissima bottiva d'argento veramente grande che cazzo di patacca qua c'è il foro che cazzo di patacca molto liscione però si riconosce bene la loretana la monadona di Loreto cazzo bella davvero bella davvero come va col derretano Samuele però lo sto mettendo un moto eh andiamo ora in diretta questo lo scavo di mattina sono ancora qui eh ce l'hai 70 MB di memoria ci sta nel video questo è un target profondo lo scavo solo per curiosità ma questo sgracchia se la farà il nostro amico no no ma non lo so mi fa un suono qui può smettere sono a sega io bisogna allargare bisogna allargare ecco inizia a suonare il ping-pong un altro un altro ditale vecchio senti allora sei proprio un roto nel derretano o nel ditalo ah che roba l'ha chiamato ha detto voglio andare là nel boschetto e io mi hanno trovato un crocifisso e adesso noi andiamo a vedere questo crocifisso ormai questo campo è pieno di buche abbiamo spazzolato in cinque l'altra volta e in sette oggi bello tante belle cosette bello? è vecchio? bravo ma lei come ride grande ma l'ho detto voglio andare là che l'hai in mezzo ma l'ho detto voglio andare lì andiamo a vedere questo crocifisso bello è intero bello questo non è solo bello questo è vecchissimo questo è bellissimo che spettacolo questo è un cucchiaio questo è un cucchiaio questo è vecchio questo è un cucchiaio medievale guarda che bel crocifisso questo è bello un bel po' questo è un cucchiaio medievale si si quelli sono vecchi vecchi rimesa l'erba alta e poi dei gramo di sotto bello 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 oh ma ho trovato adesso le cose una fibbia un cucchiaio medievale quindi tutti decorati è bellissimo dentro la tonditale una bottiglia d'argento spettacolare bella questa esagonale che bella io adoro queste qui con il doppio piccangolo spettacolo che bella che è questa mi piace da matti queste sono 10 lire poi un pacchetto di sigarette una pallina di piombo e questa votiva qua d'argento bellissima questa è la madonna di laurent non è trovate la robina eh alla fine bello ci sono i due suini il semigliano il pino ce la so per chi va nella che scavano un bambino adesso un bambino adesso ci credo ma è importante il pimpone mi sembra questa merda che questa merda qua non c'è niente samuel ha trovato un'altra vitale come quella io ho trovato questa dicevo che c'era dentro la cassaforte porca traia era proprio lì vicino al muretto sotto al muretto e poi c'è la cassaforte il tesoretto la facoltà